Ben trovati in studio, seconda parte del nostro telegiornale, ci occupiamo dell'aeroporto di Comiso. Nei giorni scorsi, come sapete, rappresentanti di Air One hanno avanzato la propria disponibilità per lo scalo casmeneo. Ancora da definire le tratte che saranno garantite. Ne abbiamo parlato con il presidente della SAC, Enzo Taverniti, ospite dei nostri studi. Sentiamo. Air One è disponibile a garantire alcune tratte per l'aeroporto di Comiso. Positivo l'incontro che c'è stato nei giorni scorsi tra i vertici di Soago e SAC e il direttore della compagnia aerea Laura Cavatorta. Durante il vertice negli uffici si è parlato già di alcune possibili tratte che la compagnia aerea è disponibile a garantire. Innanzitutto bisognerà cercare di non creare concorrenza tra lo scalo di Catania e quello comisano. Come ha spiegato il presidente della SAC, Enzo Taverniti, si stanno cercando tratte alternative e complementari, anche se non è escluso che potranno essere inserite come distrinazione anche in Roma e Milano, attualmente effettuate da Fontana Rossa. Logicamente se si farà una linea, la linea dovrà essere quella che non crea problemi a Catania da un lato, ma anche quella che non crea problemi a loro, in quanto già su Catania loro volono per Roma e per Milano, che sono le tratte che a noi piacerebbe avere inizialmente, ma che da quanto abbiamo appreso dovrebbero in questo momento essere messe da parte. Si penserebbe invece a voli su linee alternative, per esempio Torino, per esempio Venezia o per esempio Pisa. Ciò non toglie che si possa anche discutere quando si avrà l'incontro tra i tecnici a Milano, anche della possibilità di avere un Roma e un Milano, ma le devo dire che da quanto ho capito è un po' difficile. E il Presidente Taverniti ha parlato anche della possibile data di avvio dell'aeroporto di Comiso, non il 5 aprile come era stato annunciato nelle scorse settimane un po' troppo frettolosamente, ma quasi certamente il periodo estivo. Da quello che so io il 5 aprile è una data difficile, perché già i due mesi, due mesi e mezzo per sistemare tutto il resto non ci sono. Dare una data in questo momento non è semplice e non è neanche corretto, perché bisognerà capire con le compagnie quale accordo si riesce a fare. E' presumibile che per l'estate ci si riesca, tra l'estate e fine estate, diciamo settembre, speriamo luglio, speriamo luglio perché significherebbe per il nostro territorio una boccata d'ossigeno, però dare una data in questo momento mi sembra anche poco corretto, e non sono io la persona giusta per dare una data, lo dovrebbe dare la sua ACO, non la SAC. E domani alle 15.20, 17.40 e 21 potrete vedere la puntata integrale di 15 minuti con che ha avuto come ospite il presidente della SAC Enzo Taverniti, durante la quale, come avete visto, abbiamo parlato dell'aeroporto di Comiso. Era attesa in mattinata una nuova conferenza da parte degli indigenti che protestano davanti il comune di Ragusa, ma l'appuntamento è stato rimandato in attesa di un incontro con il commissario Rizza. Sentiamo. E' passato quasi un mese da quando un centinaio di persone si è riunito in presidio permanente davanti il comune di Ragusa. Li chiamano invisibili, ma in questi giorni per la città di Ragusa non lo sono stati, anzi, la cittadinanza si è accorta di loro, lo dimostrano i modi con cui in queste settimane ha mostrato loro solidarietà, soprattutto durante le festività natalizie. Stessa attenzione in particolare all'inizio della vicenda da parte della politica eblea, che adesso però pare essersi sopita. Dalle istituzioni invece i primi risultati concreti si sono vissi solo negli ultimi giorni, dopo una serie di incontri interlocutori con le parti in causa. La scorsa settimana dal comune hanno pubblicato il bando per l'assegnazione di un contributo economico alle persone svantaggiate, una soluzione che però non ha trovato riscontro favorevole proprio tra loro, gli indigenti, per due ragioni. La prima è che i requisiti previsti dal bando inglobano una fascia di destinatari molto più ampia di quella dei manifestanti, i quali temono di essere esclusi. La seconda è che quello del sussidio è solo un aspetto marginale della faccenda, quello principale la richiesta di un lavoro. Non vogliamo le lemosine, hanno sempre ripetuto in questi giorni i manifestanti, ma un lavoro per vivere con dignità. Ma da questo punto di vista, a parte gli iniziali incontri con le cooperative sociali di tipo B che dovrebbero assumere queste persone, non c'è stato alcun progresso. Ed è proprio per avere risposte certe in merito a ciò che in giornata gli indigenti dovrebbero incontrare il commissario Rizza, l'incontro per la verità sarebbe dovuto avvenire in mattinata, ma è stato rimandato di ora in ora. Al termine dell'incontro con il funzionario regionale, gli indigenti esporranno le proprie valutazioni in una conferenza stampa. Vogliamo risposte certe, dicono, non possiamo continuare così. Questione elettrodotto in primo piano. Ieri il Consiglio Comunale a Ragusa ha dedicato alla vicenda. Parere positivo è stato espresso da parte del civico consesso in merito alla realizzazione dell'opera, mostrando così un netto cambio di rotta rispetto a quanto fatto dalla precedente amministrazione. Il cambio di rotta del commissario Rizza sulla questione elettrodotto ha ottenuto conferma anche da parte del Consiglio Comunale di Ragusa. Ieri il civico consesso si è infatti espresso favorevolmente in merito all'opera che sarà utilizzata per il passaggio dell'energia elettrica dall'Italia a Malta. Dopo il no dunque dell'amministrazione di Pasquale alla realizzazione dell'elettrodotto, che, lo ricordiamo, attraverserà anche il territorio ebleo, la situazione pare essersi ribaltata, non senza ostacoli. A porre infatti dei ma sono stati ieri soprattutto i consiglieri vicini all'ex sindaco che hanno ribadito la loro contraretà all'opera, preoccupati degli effetti che essa avrà sul contesto ambientale e sulla salute dei ragusani. Ma la delibera del commissario Rizza ha trovato l'appoggio da parte del PD, IDV, MPA, PDL, UDC e PID, che dunque ne hanno assicurato l'approvazione finale. Resta il fatto che l'opera dovrà ottenere il parere favorevole e definitivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e di quello dell'Ambiente che si riuniranno insieme ai rappresentanti della regione siciliana il prossimo 23 febbraio a Roma. Ma l'approvazione di ieri è avvenuta tuttavia dietro precise condizioni, come la compensazione in termini economici a favore della riqualificazione ambientale, si parla di diverse centinaia di euro che potrebbero essere destinate al recupero del depuratore di marina di Ragusa, o come le attente procedure di natura tecnica a cui dovrà essere sottoposto il punto di sbarco a terra della struttura per alleggerire quanto più possibile l'impatto ambientale. Passo in avanti dunque, ma adesso si guarda l'appuntamento di fine febbraio. L'ufficio Acquedotti del Comune di Vittoria informa alla cittadinanza che si è verificato un inquinamento dell'acqua della condotta cittadina. La zona interessata è il quadrilatero compreso tra le vie Cristoforo Colombo, Cacciatore delle Alpi, Virgilio Lavora e Neghelli, in particolare nelle vie Concetto Marchese, Della Cate e Bologna. L'assessore Cavallo ha invitato i residenti della zona a non utilizzare l'acqua corrente e a chiudere le saracinesche ed ingresso dell'acqua, consigliato anche lo svuotamento e la pulizia dei serbatoi e delle cisterne. Visita questa mattina da parte del prefetto di Ragusa a Vardè alla sede della Guardia di Finanza del Capoluogo. Sentiamo. Il prefetto di Ragusa ha annunziato a Vardè in visita questa mattina nella sede provinciale della Guardia di Finanza ad accogliere il colonnello Francesco Falli che è militare delle tenenze della provincia. Il prefetto ha concluso così il suo giro di visite istituzionali alle forze dell'ordine dopo aver incontrato nei giorni scorsi polizie e carabinieri. Durante l'incontro è stato tracciato il bilancio dell'attività svolta dalle fiamme gialle durante il 2012 con particolare attenzione alle attività portate avanti contro l'evasione fiscale e il lavoro sommerso e altre importanti operazioni. Si tratta di una visita che ho voluto fare anche al comando provinciale della Guardia di Finanza a conclusione di un giro di visite presso le tre forze territoriali delle forze di polizia ho cominciato con la questura la settimana scorsa sono stato in visita al comando provinciale dei carabinieri e oggi concludo questo giro di visite con il comando provinciale della Guardia di Finanza. È stata l'occasione con il prefetto di conoscerci ancora meglio perché il prefetto ancora non aveva avuto l'occasione di venire in questa sede e di fargli vedere tutti quanti i nostri uomini le nostre attività e tutto quello che noi facciamo. Abbiamo utilizzato proprio per questo un nostro briefing così lo chiamiamo dove abbiamo illustrato tutte quante le nostre attività anche i nostri risultati che sono stati ottenuti e anche per darci uno scambio di considerazione sulle indagini e sulle attività più importanti ovviamente non entrando nel merito perché si tratta di attività di PG ma insomma per poter anche avere un spettro più ampio sull'aspetto anche sociale ed economico della nostra provincia. Si pagherà a partire da luglio la Tares la nuova tassa sui rifiuti e l'igiene ambientale la di Consum interviene per dare alcune utili informazioni ai cittadini. Nuova tassa per gli italiani il decreto Salve Italia del dicembre 2012 ha istituito la Tares il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che dal 1 gennaio di quest'anno sostituisce le attualità su tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la TIA la tariffa di igiene ambientale. Il nuovo tributo è destinato a coprire oltre ai costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento anche i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni in altre parole i servizi comunali di cui beneficia l'intera collettività ma per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo come l'illuminazione la manutenzione delle strade e tutte le attività diverse da quelle che come gli asiliniti o l'assistenza domiciliare sono invece effettuate a domanda individuale. La tares di conseguenza a giudizio della di consum sarà più costosa delle attuali tasse sui rifiuti i comuni infatti per finanziare anche i servizi indivisibili applicheranno al tributo una maggiorazione pari al 30 centesimi al metro quadro elevabile fino a 40 la tares sarà a carico di tutti i cittadini quindi non solo dei proprietari di immobili ma di tutti coloro che a qualsiasi titolo occupano o detengono locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e sarà commisurato alle quantità e qualità media ordinari dei rifiuti prodotti per unità di superficie per quanto riguarda il pagamento della tares per cui sono state previste quattro rate fissate per legge gennaio aprile luglio e dicembre oltre che la possibilità di pagare in un'unica soluzione nel mese di giugno la prima rata del 2013 inizialmente posticipata ad aprile dalla legge di stabilità è stata ulteriormente spostata a luglio in seguito al compromesso raggiunto al senato in sede di approvazione del decreto sull'emergenza rifiuti la tares pertanto in vigore dal primo gennaio scorso si pagherà a partire da luglio di quest'anno resta ferma la facoltà dei comuni di differire ulteriormente al termine il pagamento potrà essere effettuato con le stesse modalità già in vigore per l'imo cioè tramite bollettino postale o modello F24 adesso la pagina sportiva con la pallavolo stop interno per l'Ardenz Comiso contro la pallavolo Hobbit le comisane si sono dovute arrendere alla capolista il palladavolos di Comiso nella decima giornata del girone C del massimo campionato regionale di pallavolo femminile è stato teatro di una bella e vibrante contesa fra l'Ardenz e la pallavolo Hobbit la formazione di discordia si presenta ai nostri di partenza della Kermesse con i galloni sul petto da capolista avendo vinto nove volte su nove gli incontri fin qui disputati d'altronde la Hobbit ha messo su una vera e propria corazzata nonostante ciò le ragazze dell'Ardenz sono scese in campo per niente intimorite dal blasone dell'avversario riuscendo a mettere seriamente sotto pressione le talentuose catanesi che hanno dovuto fare gli straordinari per avere la meglio sulle maedome casmene infatti solo dopo quasi due ore di grande intensità agonistica l'Ardenz Comiso cede alla maggiore esperienza dell'atlete della Hobbit con il punteggio di 3 a 1 oltretutto proprio dai parziali dei 4-7 21-25 23-25 26-24 e 20-25 si vince di quanto esaltante è stato il confronto e di come le ragazze di Emanuele Campo hanno messo paura a Chiavoro e compagne nonostante la sconfitta l'Ardenz Comiso tiene salda con i suoi 15 punti all'attivo la Lusinghiera quinta posizione in classifica ed è tutto per oggi continuate a seguirci sul nostro sito all'indirizzo free tv online 1.it sulla nostra pagina facebook free tv comiso grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti